Ciao a tutti, da Marco Domeniconio, il vostro pifferario magico preferito, anche consulente musicale. Oggi parleremo di Ubi 40. Ubi 40 sono un gruppo musicale britannico, fermatissi a Birmingham nel dicembre 1977, e performing Birmingham in 1977, pro-Britain. Durante la carriera il gruppo ha venduto oltre 70 milioni di dischi, e solo 7 million records. Il nome del gruppo è ispirato al numero del modulo del sussidio di disoccupazione inglese. Ubi 40, Ubi 40, acronimo di Unemployment from 40. Pensate che agli esordi nessun compagnetto del gruppo sapeva suonare uno strumento. Hanno imparato. Il loro suono è una combinazione di pop reggae e rock, con ampio utilizzo di precauzioni sintetizzatore e sonorità vocali, cosiddetto reggae bianco. Il loro primo singolo, King Food for Thought, andò quinto nella top 5 UK hits. Il singolo Red Red Wine che stiamo ascoltando ora, primo nella hit parade inglese, è 1983. Il singolo Red Wine che stiamo ascoltando ora, è 1983. Il singolo Red Wine che stiamo ascoltando ora, è 1983. Il singolo Red Wine che stiamo ascoltando ora, è 1983. Il singolo Red Wine che stiamo ascoltando ora, è minor, è I got you babe from Shawn & Sher, questo è I got you babe, un vecchio singolo di Shawn & Sher degli anni sessanta, che loro rifecerò. I got you babe, questo che sia la cantante dei Pretenders, Crescind. Not sure, Crescind is a singer here, Pretenders. In 2008 Ali Campbell left the band. Cantante, leader, frontman della band, Ali Campbell lasciò il gruppo nel 2008. I got flowers in this ring. I got you to wear my ring. And when I say... Sì, sono sicuro che Crescind è inconfondibile il suo stile. Crescind è Pretenders, ma questa è la mia preferita, sing our own song. Questa è la mia preferita, sing our own song. Canto la nostra canzone, i più forti. Spero vi sia piaciuta questa puntata. Ciao! 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 Mandiamo la nostra canzone. un mio forti, ciao a tutti! Compluteremo per i nostri diritti. Costruiremo la nostra società. Canteremo, canteremo, la nostra canzone. Ciao a tutti! Ogni mattina, un ospite di rilievo. Con noi oggi, Marco Domenicuni. Grazie per la visione!